Prosegue anche oggi presso la sede dell'Ordine dei Medici di Salerno con la seconda giornata di confronti l'incontro Scuola Medica Salernitana e prima dialoghi con gli studiosi tinisini e di altre aree del Mediterraneo su una medicina moderna che attinga alle regole preziose della tradizione. Il convegno è organizzato dall'Ordine dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno preseduto dal dottor Giovanni D'Angelo attraverso la Fondazione Neutopia con la Fondazione Scuola Medica Salernitana, il Comune di Salerno. Per tre giorni i medici tunisini, esperti, docenti universitari e medici salernitani hanno posto l'accento sul ruolo esclusivo che la Scuola Medica Salernitana ha avuto nel veicolare il sapere medico antico ben conosciuto dal mondo arabo e che giunse a Salerno attraverso Costantino, l'Africano e i suoi scritti. Tra le finalità del progetto c'è anche quella di promuovere studi e incontri che permettano ai paesi affacciati sul Mediterraneo di ritrovare le antiche comuni radici mediche di comprendere gli scambi reciproci. Il progetto di questo convegno e la sua realizzazione parla chiaro. Il Mediterraneo è il mare Nossum, il mare Nossum ellenico greco non è il mare Nossum dell'impero romano soltanto, ma è la via della cultura, il mare della commercializzazione e anche della migrazione culturale. Costantino l'Africano ha avuto la grandezza di dover venire a Salerno, ma poi ha scelto di venire a Salerno, quindi ha portato tutto quello che ha potuto trasportare perdendo anche dei testi importanti della biblioteca tolemaica di Alessandri d'Egitto e tutto quello che aveva comprato, essendo lui un mercantolo generalmente, in tutti i paesi non solo arabi ma arrivando all'India, all'Egitto, in Iran. Sento nelle sue parole l'orgoglio di essere salernitano, forse a volte ci scordiamo che cosa ha avuto origine e qui lo dico anche a lei che è medico oltre che ai cittadini normali. Il brand di Salerno si chiama scuola medica salernitana perché è conosciuto in tutto il mondo. Prima gli amici e i colleghi tunissini hanno fatto vedere un diagramma importantissimo, prima c'era Cartagine, poi Salerno, dal Salerno si dirà amata la cultura medica arabo-greca tradotta a Monte Cassino, dal costantino l'Africano, in tutta Europa. Tre momenti fondamentali dell'iniziativa, un progetto di gemellaggio tra Salerno e Cartagine alla presenza del sindaco di Cartagine e la traduzione del Regimen Sanitatis Salernitanum in inglese, francese, portoghese, arabo e anche napoletano. La traduzione è molto importante per noi portughesi perché ci sono tre traduzioni già dal Regimen ma non sono molto conosciute. e adesso il dottore Guilermo è un giovanotto medico che ha traduto e adesso forse è necessario portare un linguaggio più moderno. Il progetto fondamentalmente ha la finalità di costruire dal punto di vista pratico una società mediterranea della storia della medicina. Idealmente questo significherebbe riportare in un albio comune due culture, quella araba e quella occidentale, che nel passato sono state alla base degli insegnamenti della scuola medica salernitana. Dopo la Tunisia potremmo abbracciare un'altra nazione qui a Salerno? Il nostro progetto è ambiziosissimo, vorremmo abbracciare tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Abbiamo già una rappresentanza anche del Portogallo e una piccola rappresentanza del Marocco. Quindi piano piano speriamo di coinvolgere tutti gli altri paesi, senza altro.